Siamo arrivati alla 63esima lezione. Vi ricordate per chi mi ha seguito quando abbiamo iniziato coi primi passi sulla prima declinazione? Beh, questa lezione non è proprio facile, forse è proprio la più difficile. È molto lunga, è molto complessa. Vi consiglio di digerirla un po' per volta. Prima vedete la correzione degli esercizi e poi la correzione passeremo al periodo ipotetico. Questi esercizi sono riferiti alla consecutio temporum, quelli dall'italiano li vedrete dopo, come al solito, mentre invece quelli da latino cerchiamo di tradurli. Adesso, quindi, la prima parte sulla consecutio temporum. Maiores nostri, non modo ut liberi essent, sedeziam ut imperarent, arma capievant. At tu arma avicienda censes ut serviamus. Non pensiamo di avere delle teofanie, delle grandi liberazioni. Uno dice, abbiamo fatto la consecutio temporum, chissà che cosa c'è. La consecutio temporum noi l'abbiamo applicata fin dalle prime lezioni, nel momento stesso in cui ci siamo trovati con un periodo, con delle subordinate, con delle subordinate al congiuntivo. Io suggerivo nel mio compendio, quel breve vademecum che ho sfornato inizialmente, di tradurre, cercare di tradurre ad orecchio, laddove non si riuscisse a tradurre. Adesso forse possiamo raggiungere una maggiore consapevolezza. I nostri antenati, qui inizia una subordinata, vedete, ut liberi essent, sedeziam ut imperarent, capievant, prendevano le armi, non modo sedeziam, non solo per essere liberi, ma anche per comandare. L'azione passata, vedete che c'è una finale, contemporaneità, noi traducevamo in modo automatico, no? Le proposizioni finale, presente e imperfetto. Guardate che le presenti e l'imperfetto delle proposizioni finali rientrano nella consecuizio temporale. Il tempo regente, come vedete, è un passato, l'azione è contemporanea perché le finali sono da intendere contemporanei e quindi la contemporaneità con dipendenza da un passato è l'imperfetto congiuntivo. Eccolo qui. At tu arma vicenda censes ut serviamus, ma tu censes pensi, c'è un S sottinteso, che le armi a vicenda esse si debbano, come possiamo dire, abicio, non si debbano prendere, ecco, che le armi si debbano respingere, ut serviamus, per servire, affinché noi serviamo. Vedete che in questo caso la regente è all'indicativo presente, c'è un tempo principale per cui anche nella finale abbiamo nella contemporaneità un congiuntivo presente. Adesso siamo consapevoli di questa cosa. Come vai la finale? Si traduce col presente l'imperfetto congiuntivo perché è solo con quelli, perché la finale indica un'azione contemporanea alla sua regente e quindi in dipendenza da un verbo presente, con tempo presente e futuro, congiuntivo presente. In dipendenza da un verbo capiemantes, con tempo storico, abbiamo l'imperfetto congiuntivo. Rem, que mad modum gestas sit, vobis exponemus iudices, quo facilius uius ominis innocentissimi miserias, conoscere possitis. Exponemus un futuro, vi esporremo la cosa, que mad modum gestas sit, come è stata gestita, come è stata fatta. Vedete che anche qui in italiano possiamo dire come è stata fatta, indicativo presente. C'è anche la possibilità di dire come sia stata fatta, però per lo più noi diciamo come è stata fatta. Però l'interrogativa indiretta è questa. Allora se l'interrogativa indiretta è il verbo congiuntivo, esponemus un futuro. Anteriorità, perfetto congiuntivo. Vedete? Di nuovo, notate che per tanti tempi noi abbiamo corrispondenza con l'italiano e abbiamo corrispondenza con l'italiano proprio perché l'italiano deriva dalla T. Poi c'è il quo facilius. Vi ricordate che là dove c'è un comparativo, la finale introdotta dal quo. Affinché questo è un comparativo di un avverbio, più facilmente o giudici, possitis è un congiuntivo presente. Possiate. Anche questo dipende da exponemus, quindi la contemporaneità, tempo principale, contemporaneità, congiuntivo presente. Più facilmente conoscere, miserias, le disavventure di questo uomo innocentissimo. Pitagorei quid quoque die dixerint, audierint, egerint commemorant vesperi. Allora, il soggetto è pitagorei, commemorant. I pitagorici ricordano. Attenzione a questo vesperi. perché uno dice, ma cos'è vesper? Perché c'è vesper vesperis e vesper vesperi, però come lo spieghiamo questo genitivo? È sottinteso ora. I pitagorici ricordano all'ora del vespro che cosa abbiano detto, hanno detto, quoque die in ciascun giorno. Che cosa hanno udito e che cosa hanno fatto. Vedete? Qui sono interrogative, infatti abbiamo anche un pronome interrogativo, dipende da un presente, anteriorità, vedete che abbiamo i verbi. Qui audierint, fate attenzione, che c'è una sincope. sta per audì verint. Vides, quam malam et noxiam servitutem serviturus sit, quam volutates e dolores possidebunt. Dunque, vedi, principale, tempo principale. Indicativo presente. Questo è un complemento oggetto, quindi c'è un ille sottinteso, ricordiamoci quindi che è un complemento oggetto. Anche se qua me lo devo tradurre subito perché è un aggettivo interrogativo. Vediamo se riusciamo. Quale servitù cattiva e nociva soggetto quello, o meglio, servirà, servirà quello che i piaceri, le passioni e i dolori possedere e possederanno. Io lo tradotto più letterale possibile, no? Quindi vedi quale servitù cattiva e nociva sarà costretto a servire quello che è posseduto dalle passioni e dai dolori. Vedete che c'è servitù un sit. Siamo gli interrogativi indiretti. Dipende dall'indicativo presente, tempo principale, azione posteriore, è espressa da un urus più simsissi. C'è da chiedersi, come mai qui abbiamo un indicativo? Abbiamo un vides, abbiamo un congiuntivo in interrogativa, per attrazione modale, qui ci dovrebbe essere di nuovo un congiuntivo. Come mai non c'è? Perché probabilmente chi scrive vuole dare come un dato di fatto, vuole esprimere come un dato di fatto questo pensiero. Littere tue non solo un quid Rome, sedezia un quid in Repubblica, neque solo un quid fierit, verum etsia un quid futurum etset, indicavanti. Littere tue, indicavanti. Littere tue vi ricordate che è un plurale a tanto, che è un plurale perché c'è anche lettera singolare. Littere vuol dire lettera dell'alfabeto. Plurale, lettera missiva oppure la letteratura? Questa è lettera missiva. Mettiamola pure singolare. La tua lettera indicava, proviamo a tradurle letteralmente, perché qui è un po' difficile. Non solo che cosa a Roma, ma anche che cosa nello Stato, né solo che cosa accadeva, ma anche che cosa sarebbe accaduto. Qui ci sono dei verbi sottintesi. La tua lettera indicava che cosa accadeva a Roma. Non solo che cosa accadeva a Roma, ma anche quello che accadeva nello Stato. E non solo che cosa accadeva, ma anche che cosa sarebbe accaduto. C'è un fierit qui all'inizio, sottinteso quid fierit. Vedete, abbiamo il verbo reggente, perché indicavant regge sia fierit sia futurum eset. Le altre sono tutte interrogative. L'interrogativa ha il verbo al congiuntivo. Qui viene messo l'imperfetto, perché è contemporaneo e indico. Invece, futurum eset è un'azione posteriore a questo tempo, che viene definito storico. E quindi abbiamo l'URUS con l'SMSS. Non sapevamo dove, come o quando, visuri esemus, avremmo visto il padre. Vedete, tempo storico, posteriorità, URUS con ESSEN, ESSEN, ESSEN. Perché questa è una interrogativa indiretta, di nuovo. Sì, dove maggiormente si rivela la consecuzio temporum, è la tipica interrogativa indiretta. Ecco perché ce ne sono così tante. Ostes diutius cum sustinere nostrorum impedus non possen, altri se in monte receperum, altri ad impedimento se conturerum. I nemici. Attenzione che c'è, anche, vedete, c'è il cumpio congiuntivo. Va, facciamo una cosa. Partiamo dalla principale. Alteri, alteri. Vi ricordate, gli uni, gli altri. Dato che sono solamente due gruppi, si usa altri e altri, se no se fosse stato più di due ali, 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 oppure uni, ali, ali. Qui poteva essere uni, alteri. Allora, gli uni si raccolsero sul monte. Gli altri si rifugiarono presso i bagagli. Vi ricordate, parliamo dei nemici, ostes, che qui c'è il cumpio congiuntivo. Anche il cumpio congiuntivo, io vi dicevo, si traduce, cumpio congiuntivo, presenti, perfetti, eccetera. Ma anche il cumpio congiuntivo è soggetto alla consecuzione. Però il cumpio congiuntivo può esprimere solamente un'azione anteriore o contemporanea. Ecco perché non abbiamo l'urus, col simo, l'urus, col esser. Qui abbiamo receperunt e contulerunt, tempo storico. E qui c'è, non potendo sostenere, un'azione espressa in contemporaneità. Ecco perché abbiamo l'imperfetto. Io avevo spiegato all'inizio, cumpossent, tempo semplice, gerundio semplice, non potendo i nemici sostenere più a lungo di Uzius, è un comparativo di un avverbio, gli attacchi dei nostri, alcuni si raccolsero sul monte, altri si rifugiarono presso i bagagli. Adversus annivalem ducem quis melhor quam africani frater crearetu, cum vincere poenos opus scipionum eset. Qui c'è un trabocchetto, perché uno se si ricorda opus eset pensa che sia opus sum. Non è opus sum, eh? Vediamo. Chi c'è una, vedete che c'è una, un punto interrogativo. Quindi ci troviamo di fronte ad una interrogativa diretta che non ha nulla a che vedere con la consecuzio temporum. E l'interrogativa indiretta è questa, quis melhor quam africani frater? crea reitur. Crea reitur. Attenzione, che crea reitur è anche un congiuntivo, dubitativo, che io traduco, chi avrebbe potuto essere creato. attenzione, anche lì dovete andare a vedere i miei conduntivi. è passivo. Chi avrebbe potuto essere nominato migliore, complemento predicativo del soggetto. quam afrater annibali, che è il fratello di annibale. adversus ducem annibale, contro il comandante annibale. e qui, di nuovo, abbiamo come il congiuntivo. imperfetto, perché in contemporanea, ha crea reitur. crea reitur tempo storico, contemporaneità imperfetto. essendo opus scipionum, il destino degli scipioni, vincere i cartaginesi. attenzione, quell'opus, che non ha nulla a che vedere con la costruzione, perché opus asset, potrebbe, si potrebbe pensare, aver bisogno, però non c'è un dativo, la costruzione di, la costruzione di opus asset qui non c'è. e quindi opus la considero, opus operi, su un nome qualsiasi, vuol dire opera, compito, dovere, destino. confetto prelio, tu un vero cerneres quanta udacia e quanta animi vis fuissenti in esercito, catiline. confetto prelio, terminato la battaglia, allora, attenzione che c'è questo cerneres. cerneres fa parte di una proposizione principale. fate sempre attenzione quando il congiuntivo si trova in una proposizione principale. di non cadere nel trabocchetto, perché, insomma, è vero, ci sono le ipotetiche, però, nella proposizione principale, ci sono tanti congiuntivi, potenziale, dubitativo, concessivo, suppositivo, votativo, bisogna individuarli. Io lì una lezione specifica su questi congiuntivi non li ho fatti, non li ho fatti, perché, secondo me, nel mio manuale, affrontando i vari congiuntivi, ci si può arrivare senza dover, necessariamente, però, fate attenzione, congiuntivo, quindi, della principale, trattatelo con le molle, e il congiuntivo della principale non ha nulla a che vedere con la consecuzione temporale. Ora, cerneres, un imperfetto congiuntivo, è un congiuntivo, in questo caso, potenziale. Allora, avresti potuto vedere in vero. Avresti potuto vedere. Quanto grande fosse stata l'audace, quanto grande fosse stata la forza d'animo nell'esercito di Caterina. Questa è un'interrogativa di nuovo indiretta. Più che perfetto, perché è anteriore rispetto a Cerneles. Cerneles è un tempo storico, dunque l'anteriorità è più che perfetta. Ist'a quam necessaria fuerint non facile Dixarim. Abbiamo quella regoluccia qui, eh? Allora, la reggente, la principale è questa. Attenzione! Dixarim. Dixarim è un congiuntivo di nuovo di una reggente potenziale e il congiuntivo perfetto delle potenziali equivale a un congiuntivo presente. Non facilmente potrei dire. È come se ci fosse scritto di campo. Quindi tempo principale. Quanto codeste cose fuerint siano state necessarie e non fuisse. Perché essendo un tempo principale l'anteriorità è espressa non perfetto e non do più che perfetto. Orator noverit quat modis et quitticatur Novi novis vi ricordate sono dei perfetti logici perfetto logico vuol dire sostanzialmente passato prossimo quindi un'azione che inizia nel passato e dura nel presente in ogni caso sono tempi dove il perfetto ha valore di presente è vero quindi che qui ci troviamo di fronte a un perfetto congiuntivo ma è come se ci fosse un congiuntivo presente quindi tempo principale ora questo Noverit che lui dice è come se ci fosse un sciat congiuntivo presente come lo traduciamo? Bisognerebbe anche vedere nel contesto perché potrebbe essere un potenziale l'oratore dovrebbe sapere oppure l'oratore sappia potrebbe essere un congiuntivo esortativo in ogni modo l'oratore dovrebbe sapere e poi abbiamo quat modis di catur et quid di catur interrogative indirette vediamo che abbiamo il congiuntivo presente perché dipende da un perfetto che equivale a presente in quanti modi di catur si parli qui potrebbe si potrebbe parlare e che cosa di catur si potrebbe dire cioè un potenziale in una in una subordinata qui in quanti modi si parla e che cosa si dice oppure in quanti modi si potrebbe parlare e che cosa si potrebbe dire il contesto è importante tu velim ad me quam sepissimente tu israelibus scribas ed emeis ed ome repubbliche statu tu velim scribas tu vorresti scrivere qui è una costruzione particolare dove il velim l'ho fatto quando ho parlato di volo non lo malo viene tradotto al condizionale tu vorresti e il velim può avere diverse costruzioni dopo di sé se li andate a vedere sul vocabolario ci sono può avere il congiuntivo semplice l'utel congiuntivo potrebbe avere l'infinito oppure l'accusativo l'infinito qui è stato messo il congiuntivo tu vorresti scrivere tu vorresti scrivere a me tu vorresti scrivermi quam sepissime il quam che precede il superlativo vuol dire quanto più frequentemente possibile da qualche parte l'ho fatta questa regola non mi ricordo più dove non so quam optimus optimus si traduce col superlativo relativo il migliore poi faccio precedere da quanto quanto migliore e poi faccio seguire da possibile quanto migliore possibile il quam qui serve semplicemente rafforzare questo superlativo relativo avverbiale il più frequentemente possibile optimus quam optimus il migliore possibile capite un superlativo qualsiasi non so quale potrebbe essere pessimum pessimus il più cattivo possibile colquam davanti delle tue faccende e delle mie e di ogni situazione dello Stato repubblico utinam quirites virorum fortium atque innocentium tantam copia paveretis ut ec vovis deliberatio difficilis esse quem nam ducem tanto bello preficiendum puttaretis utinam ci dice subito strano che qui qui ci ha messo qui ci dovrebbe essere un punto esclamativo con l'utinam abbiamo il congiuntivo desiderativo ora dov'è il verbo retto da utinam averetis in perfetto congiuntivo volesse il cielo quiriti che voi aveste tantam copiam una così grande abbondanza di uomini eroici e onesti che fosse difficile che mettiamo da essere difficile per voi una delibera siamo in una consecutiva voi sapete che le consecutive non rispettano necessariamente la consecutiva qui invece la rispetta la rispetta perché essendo contemporanea averetis tempo storico contemporaneità imperfetto da dicevo essere difficile per voi questa delibera chi mai quale mai comandante putaretis pensate per ficendum esse che debba essere messo ducem come guida ad una guerra così importante ducem un complemento predicativo che si trova dall'infinitiva ed è come soggetto quenam abbiamo anche una perifrastica passiva preficio preficendum c'è un s sottointeso quenam putaretis vedete che è un'interrogativa indiretta e usa l'imperfetto congiuntivo perché è in contemporaneità con il verbo della reggente tu ne quesieris quem mi quem tivi finem di vedete ne quesieris è un imperativo negativo abbiamo il perfetto ma nell'imperativo negativo il perfetto ha valore di tempo principale infatti vedremo dopo che il verbo messo a congiuntivo viene tradotto al perfetto come appunto se nella reggente ci fosse un tempo presente tu non chiedermi quen finem di dederit me quale compito gli dèi abbiano dato a me quale compito gli dèi abbiano dato a te anche qui interrogativa indiretta andiamo avanti cito me posquam in urven venerim redisse cum veteribus amicis id est con libris nostri ingrazia qui ci troviamo in quella regoluccia che ho chiamato regola di reusch vediamone una cito 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 me redisse vedete c'è proposizione principale al presente poi c'è un'infinitiva cito cito citote fate attenzione che il verbo uscire non ha l'imperativo presente ha l'imperativo futuro che vale da presente sappi che io redisse sono sono ritornato cum veteribus amicis ingrazian sono ritornato in amicizia con i vecchi amici id est cioè con i nostri libri e fin qui ci siamo ma dopo retto da redisse non retto da scito ma retto da redisse abbiamo una temporale post qua minurben venerim uno dice è retto da redisse tempo storico le reggenze sono dai verbi storici no perché perché siamo in quella regola proposizione principale tempo presente futuro da cui dipende un infinito al perfetto da cui dipende una proposizione al congiuntivo proviamo a togliere la principale sappi che io sono ritornato dopo che dopo che sono giunto allora tiriamo via sappi dopo che ritornai nella città redisse ripresi vedete che tutti e due hanno il passato remoto abbiamo fatto anche la prova del nove non abbiamo solo applicato la regola ma abbiamo fatto la prova del nove quindi questo venerim non si prende il verbo redisse ma si prende scito scito è un futuro quindi concordanza presente perfetto questa azione anteriore è anteriore e quindi usa il perfetto dopo che venerim sono tornato in città redisse sono tornato sostanzialmente è lo stesso significato sono ritornato in amicizia con i vecchi amici cioè con i nostri libri ricordiamola che forse secondo me è la regola più complessa della consecuzio tempolo vediamo quanta ista pecunia fuere que potuer e ium nomine minime avaru ominem minime amaru abumanitate deduce vediamo quantus quanta quanto vuol dire quanto grande quanto grande codesta questo codesto patrimonio sia stato è un'interrogativa indiretta quindi indipendenza da un presente diventa congiuntivo che ha potuto allontanare e io dall'umanità e io uomo per niente avano allora qui abbiamo una relativa dipende da un congiuntivo va a finire in attrazione modale di nuovo la regola precedente dunque non devo fare riferimento a fuerit perché vedete che qui c'è un presente principale regge un perfetto congiuntivo e regge a sua volta una trazione modale quindi siamo in piena regola o tuerit quindi non deve riferirsi a fuerit ma deve riferirsi a videamus presente facciamo la prova del nove tiriamo via videamus vediamo quanto grande sia stato questo patrimonio che ha potuto tiriamo via videamus quanto grande è stato questo patrimonio che ha potuto vedete abbiamo tirando via videamus potuerit conserva il perfetto quindi mettiamo potuerit anteriorità del presente potuerit e non anteriorità di un passato e quindi non potuisse ma qui secondo me c'è anche un'altra regola vediamo quanto sia stato grande questo patrimonio che ha potuto e anche una consecutiva questa una consecutiva dentro a una subordinata relativa impropria quindi rientra anche nella regola delle consecutive dove non necessariamente la consecuzione viene rispettata Ateniensis miserunt ad Elfos consultum quindam facere terebus suis qui secondo me c'è un eum sottointeso gli Ateniesi lo mandarono ad Elfi per consultare per consultare Delfos potrebbe anche essere un complemento oggetto di consultum ma Ateniensis il miserio no ma gli Atenesi lo mandarono ad Elfi per consultare per chiedere per sapere quindam che cosa mai fare della loro situazione vedete facerent imperfetto perché dipende da un tempo storico contemporaneità imperfetto e questo facerent non dipende da consultum supino attivo supino attivo è trasparente si salta si bypassa e si va a miserunt difficile dic tu est quant'opere concilie et animus comitas et at fabilitas sermonis è difficile dirsi quanto la piacevolezza e l'alfabetità della parola concili gli animi vedete anche in questo caso conciliet è in un momento un interrogativo in diretta di nuovo al congiuntivo presente perché parte il fatto che anche in questo caso non cambierebbe nulla in ogni modo non dipende da dictu ma da difficile est anche se forse di peso da dictu non cambiava rimane sempre tutto congiuntivo presente non dubitat agricola quambis senes querenti cui serat rispondere dis immortalibus non dubita l'agricoltore sebbene vecchio rispondere querenti querenti è un participio presente a colui che chiede poteva fare a meno di mettere equi querit lo sappiamo anche noi il participio presente a colui che gli chiede cui serat per chi semini rispondere che cosa per gli dèi mortali cui è un interrogativo in diretta si regola sul dubitat quindi congiuntivo presente indicativo presente dubitat tempo principale quindi in contemporaneità io ho un congiuntivo presente serat querenti non lo si guarda neanche parte il fatto che in questo caso anche se lo si guardasse è presente anche lui quindi cupido incessit animos juvenum scicitandi ad quem eorum regnum romanus esse ventuno il desiderio entrò negli animi dei giovani incessi cupido siccitandi desiderio di sapere entrò negli animi dei giovani e poi abbiamo l'interrogativa indiretta a chi di loro venturum esse sarebbe toccato il regno romano allora vedete che c'è un gerundio e questa interrogativa indiretta ad quem venturum esse terretto da cicitandi ma io non guardo cicitandi perché cicitandi è un gerundio sostanzialmente si ricade di un infinito vado a vedere il verbo precedente incessi e infatti la posteriorità essendo incessi di un tempo storico non è espressa da urus col sim ma urus con l'esse cesar timengsne navibus nostri circunveni circunveni rentur duplice meoloquo fecerat vallum allora cesare abbiamo la proposizione principale aveva fatto in quel luogo un vallo duplice temendo temendo che cosa che i nostri fossero circondati dalle navi questo che i nostri fossero circondati dalle navi dipende da timengs ma timengs è un participio presente io dico semplice che viene bypassato e trasparente quindi il verbo della complementare diretta circunveni rentur si modella sul tempo guardando la proposizione principale fecerat la contemporaneità espressa dall'imperfetto perché fecerat un tempo storico abbiamo finito qui ci sono le traduzioni dall'italiano in latino poi abbiamo il periodo ipotetico le nuove traduzioni le ultime traduzioni la prossima volta ci sarà solo la correzione e non ci saranno nuove lezioni andiamo a vedere il periodo ipotetico il periodo ipotetico me lo sono scritto io perché non mi piacevano le impostazioni che ho trovato sui libri allora la prima la prima parte se uno la già conosce perché ha scaricato l'analisi che è presente sul mio sito riguarda due parole la conoscenza del periodo ipotetico perché è inutile parlare di periodo ipotetico nel momento in cui non si capisce che cosa sia il periodo ipotetico noi leggiamo che la proposizione condizionale dà origine a periodo ipotetico che è composto dalla proposizione condizionale più la sua reggente quindi il periodo ipotetico è composto da due proposizioni condizionale e reggente della condizionale questa reggente della condizionale può essere principale come può essere a sua volta una subordinata la proposizione condizionale si chiama premessa infatti se studi premessa protesi sarai promosso principale conseguenza apodosi se la reggente apodosi è anche principale il periodo ipotetico si definisce indipendente cioè non dipende da altro se la reggente apodosi non è principale il periodo ipotetico si definisce dipendente e allora poi bisogna vedere da che cosa dipende specialmente in latino se dipende da un congiuntivo o se dipende da un infinito in ogni caso che sia dipendente o indipendente il periodo ipotetico può essere o della realtà o della possibilità o delle realtà realtà quando la condizione è reale e si trova sempre con l'indicativo della possibilità quando la condizione è possibile sempre con verbo congiuntivo condizionale delle realtà quando la condizione è irreale sempre con verbo congiuntivo condizionale vediamo se studi sarai promosso basta vederlo già con l'indicativo è un periodo ipotetico della realtà questo è un periodo ipotetico indipendente ma se invece di dire se studi sarai promosso io dico sono certo che sarai promosso se studi anche questo è un periodo ipotetico della realtà però è dipendente cioè è dipendente da una proposizione principale sono certo che sarai promosso è una protosi una conseguenza del se tu studi che è la protosi premessa poi se tu studiassi saresti promosso ed è la possibilità no? mette come ipotesi questa questa premessa se tu studiassi saresti promosso la conseguenza facendolo diventare dipendente penso che saresti promosso se studiassi poi c'è il periodo ipotetico dell'irrealtà o impossibilità quando l'ipotesi viene considerata irreale se fossi Cesare beh Cesare non potrò mai esserlo quindi premessa in realtà conquisterei il mondo conseguenza proposizione principale ed è periodo ipotetico indipendente perché vedete che conquisterei il mondo è anche principale se io questa proposizione ipotetica la faccio dipendere da un'altra da un altro verbo diventa dipendente dice che conquisterebbe il mondo se fosse Cesare proposizione principale che conquisterebbe il mondo apodosi conseguenza periodo ipotetico dipendente perché dipende da dice se fosse Cesare premessa attenzione che può capitare che la protesi non si presenti col se ma si presenta ad esempio con il gerundio prendendo il trama arriveresti in tempo se prendessi il trama e qui potrebbe essere della possibilità a giudicare dall'apparenza si sbaglia se si giudica dall'apparenza si sbaglia questo potrebbe essere un periodo ipotetico della realtà sempre indipendente insomma lì bisogna guardare un momentino la mia spiegazione là nell'analisi è un pochettino più lenta adesso guardiamo il latino cominciamo con il periodo ipotetico indipendente cioè laddove io mi trovo se studi sarei promosso non dipende cioè da un altro verbo ossia l'apodosi vedete l'apodosi e anche proposizione principale il periodo ipotetico della realtà latino sostanzialmente è uguale a quello dell'italiano indicativo in italiano indicativo in latino vedete se studi si studes sarei promosso probabilis ciò nota bene la protasi la protasi cioè la condizionale ossia la premessa può avere il verbo al congiuntivo se il soggetto è indeterminato qui si parla di un tu generico se qualcuno la forma impersonale non è che debba necessariamente finire al congiuntivo ma la si può trovare al congiuntivo se tu studi questo tu si intende indeterminato non tu Mario un tu generico come se si dicesse se si studia se tu studi sarai promosso e vedete che oltre al si studes c'è la possibilità del si studeas saltiamo il momento il periodo ipotetico della possibilità andiamo a quello dell'impossibilità anche il periodo ipotetico della impossibilità parliamo sempre di un periodo ipotetico indipendente è uguale all'italiano cioè in italiano si trova il tempo imperfetto o trapassato congiuntivo così lo troviamo in latino attenzione che le condizioni le premesse non è che debbano essere sempre di una irrealità spudorata se fossi cesare conquisterei il mondo se fossi cesare è una condizione una premessa impossibile quindi questa è la realtà potrebbe anche essere in altra forma notate qui se tu studiassi nel senso però che tu non studi non hai studiato saresti promosso arriva Pierino mi porta la pagella con tutti i due tre e quattro non si usano neanche più i due tre e quattro ormai gli insegnanti danno tutti i sufficienti voto di consiglio ed è per questo che crescono gli asini se tu studiassi gli dico non avresti questa pagella ma la mia ipotesi è un'ipotesi irreale perché tu non hai studiato perché hai tutti i due tre e quattro quindi in questo caso lo si può considerare una ipotesi irreale se tu studiassi o se avessi studiato nel senso che non studi e non hai studiato saresti promosso saresti stato promosso e traduco come in italiano studiassi studeres provareris o provatus esses quindi vedete che i periodi ipotetico della realtà e della irrealtà sono uguali cosa cambia dall'italiano in latino il periodo ipotetico della possibilità non si traducono nello stesso modo e in questo senso il latino è molto più preciso perché in italiano voi capite che sia per la possibilità sia per l'impossibilità o in realtà i tempi sono uguali e sostanzialmente bisogna vedere dal contesto per capire il senso il latino il latino invece dice no guarda quando devi esprimere una condizione irreale o impossibile devi usare l'imperfetto o il più che perfetto quando devi invece esprimere una condizione un periodo ipotetico possibile usi il non imperfetto più che perfetto ma presente e perfetto congiuntivo rifacciamo la stessa frase che abbiamo visto dopo se tu studiassi se avessi studiato nel senso che potresti o avresti potuto studiare saresti promosso saresti stato promosso come possibilità io non traduco più studeres ma studeass o studueris perfetto proveris o provatussis vedete quindi nei congiuntivi in quel manuale per la traduzione pratica io l'avevo detto fate attenzione che ci può essere un congiuntivo presente o perfetto che non può essere tradotto in modo letterale perché è un congiuntivo che esprime il periodo ipotetico della possibilità e allora non abbiamo corrispondenza tra italiano e latino nota bene l'apodosi parliamo dell'apodosi parliamo dell'apodosi ossia della proposizione principale può avere il presente indicativo al posto del congiuntivo con i condizionali presenti dovere potere o di espressioni che indicano opportunità e convenienza noi in italiano direbbe sarebbe opportuno sarebbe necessario sarebbe giusto ebbene sarebbe opportuno io lo traduco al l'indicativo non sono obbligato sarebbe opportuno opportet sarebbe necessario necesses sarebbe giusto justum est se lo vedessi sarebbe opportuno dirgli la verità vedete che questa è della possibilità vedessi nella condizionale io tengo il congiuntivo presente si videaseum se lo vedessi sarebbe opportuno e come se ci fosse scritto è opportuno opportet dicere è verità con questo noi abbiamo terminato il periodo ipotetico indipendente come regola generale è necessario però completare questa regola in riferimento a quello che troviamo nella possibilità terza cioè il periodo ipotetico della irrealità o impossibilità vediamo di metterlo tutto assieme così abbiamo detto che il periodo ipotetico della irrealità o impossibilità si trova in latino né più né meno come lo si trova in italiano e viceversa ci sono a volte vediamo le eccezioni nell'apodosi al posto del più che perfetto congiuntivo si può trovare l'imperfetto il perfetto il più che perfetto indicativo nei seguenti casi di nuovo con i condizionali passati di dovere e potere in espressioni che indicano opportunità e convenienza stessa cosa di prima soltanto che là eravamo al presente e qui siamo al passato sarebbe stato l'avevamo sarebbe opportuno sarebbe necessario sarebbe giusto qui abbiamo sarebbe stato opportuno sarebbe stato necessario ecco invece di oportet abbiamo portuit necesserat justumerat proviamo a fare un esempio non avresti potuto fare nulla se non fossi stato presente se non fossi stato presente è un'ipotesi che chiaramente ci dà una condizione irreale perché se dico non avresti potuto fare nulla se non fossi stato presente vuol dire che tu sei stato presente quindi ci troviamo nel periodo ipotetico del terzo tipo se non fossi stato presente misi ad fuisses ad sum composto di sum no? quindi non avresti potuto fare nulla questa è di nuovo un condizionale di convenienza che si presenta in italiano e che come proposizione principale in latino posso tradurre nil potuistis agere non hai potuto fare nulla oppure lo lascio così com'è avresti potuto potuissas stessa cosa capita con la perifrastica passiva avremmo dovuto tutti ascoltarlo se fossimo stati presenti notate che ho sempre utilizzato lo stesso tipo di apodosi per non creare problemi se fossimo stati presenti si ad fuissemus va bene di nuovo un'ipotesi irreale ora avremmo dovuto tutti ascoltarlo da noi si sarebbe dovuto da noi tutti si sarebbe dovuto ascoltarlo quindi questo è un dativo da gente novis metomnibus audiendus erat sostanzialmente doveva essere ascoltato da noi tutti se fossimo stati presenti forma vedete indicativo ma non è esclusa la possibilità del fuisse almeno per quel che vi risulta la stessa cosa si ha con la perifrastica attiva in sostituzione dal congiuntivo attenzione che questa è una cosa più complessa specialmente per la traduzione dal latino in italiano cioè in periodo ipotetico indipendente con l'appodosi al perifrastica attiva attenzione che non è che necessariamente noi lo dobbiamo tradurre essere sul punto di avere intenzioni di è una forma una costrutto che può essere sostituito al verbo allora non lo avremmo accusato e scusate lo avremmo accusato pubblicamente e un palam accusavissimus si adfuissimus questa è la traduzione regolare posso tradurlo è un palam accusaturi aramus e come se ci fosse scritto noi eravamo sul punto di accusarlo apertamente però non posso tradurre così dal latino dobbiamo ricordarci quindi della perifrastica attiva con pene che vuol dire quasi per poco non mi sarei perduto d'animo se tu non fossi stato presente di nuovo nisat fuisses per poco pene non mi sarei perduto d'animo defecere animo defecere animo animo defecci qui non mi risulta che si possa utilizzare anche il più che perfetto perché il pene vuole necessariamente il perfetto indicativo quando ancora un fatto stava per accadere ma poi non è accaduto con il più che perfetto indicativo vi avremmo battuti eravamo lì per battervi se tu non fossi stato presente nisat fuisses possiamo mettere vi cisemus vi avremmo battuti ma si può usare anche il più che perfetto indicativo per dire eravamo lì per battervi vos viceramus secondo me questa tabella che riguarda l'ipotetica delle realtà è quella più complessa adesso passiamo al periodo ipotetico dipendente con apodosi all'infinito vedete qui una proposizione principale progetto aveo te errare apodosi cioè conseguenza si ecdicas premessa protesi anche qui anche qui distinguiamo periodo ipotetico della realtà della possibilità dell'irrealtà adesso sappiamo che cosa vuol dire apodosi protesi realtà possibilità realtà non lo spiego più evidentemente dunque l'apodosi è un'infinitiva nella realtà secondo i tempi dell'infinitiva quindi infinito presente passato e futuro la protesi al congiuntivo tempi secondo la consecuzione temporum vediamo sono certo che se dici queste cose sbagli sono certo che sbagli procerto aveo terra vedete siamo si ecdicas questa è una proposizione che ha il congiuntivo non deve modellarsi su errare perché l'infinito presente non fa legge bisogna andare sulla proposizione reggente che è procerto aveo presente in contemporaneità congiuntivo presente sono certo che se hai detto queste cose hai sbagliato procerto aveo te erravisse anteriore attenzione uno dice si ecdixeris come mai perfetto congiuntivo indipendenza da un perfetto se deve conseguire perché siamo nella regola di Reusch perdonatemi sempre se non la pronuncio giusta questa parola non so se è questa la pronunzione di modo non è questo che non interessa allora qui abbiamo proposizione principale presente qui abbiamo un infinito perfetto che cosa metto qui si ecdixeris non necessariamente vuole il congiuntivo è una vera e propria trazione modale faccio la prova del nove tiro via procerto aveo sono certo che lasciamo solo il resto se hai detto queste cose hai sbagliato vedete che uso il perfetto quindi perfetto quindi si concorda con il tempo della proposizione principale e non dell'apodosi ero certo che avresti sbagliato se dicevi o avevi detto queste cose però certo aveva che tu avresti sbagliato terra turumesse visto che questo è un infinito futuro io devo concordare la consecuzione temporum sul verbo avevam procerto avevam che se avevi detto ed existes o se dicevi diceres o contemporaneità o anteriorità sostanzialmente abbiamo la regola della consecuzione temporum attenzione alla possibilità nella possibilità l'apodosi è sempre con l'urumesse nella realtà sarà con l'urum fuisse quindi urumesse in un periodo ipotetico con apodosi all'infinito ci dice con sicurezza che ci troviamo di fronte ad un periodo ipotetico della possibilità è anche vero che anche il periodo ipotetico della realtà potrebbe avere un urum però questo è di regola che l'azione possa essere considerata nell'infinitiva anteriore posteriore contemporanea abbiamo in ogni caso l'urumesse di nuovo la protosi al congiuntivo secondo le regole della consecuzione temporum ma dato che nell'infinitiva c'è sempre un urumesse questa consecuzio si modella sulla reggente penso che se vedessi Paolo glielo direi penso punto questo che vedessi anche se può sembrare contemporanea è una possibilità quindi si mette scusate questo direi anche se può sembrare contemporanea visto che ci troviamo nel periodo ipotetico della possibilità dipendente con apodosi all'infinito va sempre con un urumesse punto dicturum oc esse Paolo si videam videam si concorda con puto pensavo che l'avrei detto a Paolo se l'avessi visto di nuovo putavam sempre dicturumesse oc Paolo si vidissem se l'avessi visto pensavo se l'avessi visto anteriore e mi regolo sul putavam perché abbiamo detto che l'infinito futuro non fa legge l'infinito futuro è trasparente e la trazione e la conseguenza temporum si modella sul verbo precedente l'irrealtà guardate è molto bella sapete perché perché la si scopre subito urum fuisse non è presente mai l'urum fuisse questa formula è presente solo per tradurre l'apodosi dipendente in un periodo ipotetico dell'irrealtà quindi quando voi trovate io nel mio manuale di traduzione latina dove non ho fatto tutta questa discussione ho detto attenzione tutte le volte che trovate un urum fuisse vi trovate di fronte a un periodo ipotetico dipendente della realtà e la protesi la protesi imperfetta è più che perfetto ricordatevi che il periodo ipotetico della irrealtà in tutte le sue espressioni non rispetta la consecuzio temporum imperfetto è più che perfetto come in italiano e come nel periodo ipotetico indipendente eccezione alla consecuzio vediamo mi ha detto che se fosse Cesare conquisterebbe il mondo mi dixit che conquisterebbe il mondo se potiturum fuisse orbiterrarum 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 perché pozior regge lavorativo vedete è fisso potiturum fuisse se fosse Cesare si Cesare esset mi dice che se fosse Cesare avrebbe e si mi dice presente che se fosse Cesare conquisterebbe il mondo mi dicit di nuovo anche se qui abbiamo un perfetto e qui abbiamo un presente è sempre potiturum fuisse mi dicit se potiturum fuisse orbiterrarum si Cesare esset se invece di fosse Cesare ci fosse stato scritto fosse stato Cesare evidentemente qui invece di esser sarebbe un fuisse nota bene se si rendesse necessario l'uso del fore o futuro messe ut vi ricordate che il fore o futuro messe ut noi lo utilizziamo in modo particolare quando devo mettere l'infinito al futuro e questo verbo manca di supino se dovesse mancare di supino questo verbo che faccio non metto più fuori o futuro messe ut ma metto futurum fuisse ut è congiuntivo imperfetto facciamo un esempio penso che se tu fossi stato presente ne avresti appreso ne avresti appreso il messaggio penso che ne avresti appreso il messaggio a prendere disco disco dices di decidcere non ha supino quindi puto questo è fisso futurum fuisse ut disceres tu imperfetto non si se fossi stato presente come in italiano si ad fuisse non secondo le regole della consecuzione di nuovo come nei casi precedenti ci troviamo di fronte a queste formule potere dovere volere bisognare essere eccetera eccetera al condizionale dell'apodosi sono resi questi con l'infinito presente o passato in corrispondenza di un condizionale presente o passato dicono che sarebbe stato meraviglioso sarebbe stato meraviglioso abbiamo il verbo essere seguito dall'aggettivo neutro metto fuisse mirum se l'avessi visto mi hanno riferito che tu avresti potuto fermarlo avresti potuto fermarlo di nuovo è un composto quindi potuisse coibere e un infine abbiamo in latino il periodo ipotetico dipendente con apodosi al congiuntivo realtà e possibilità si traducono nello stesso modo quindi si possono distinguere solo dalla lettura contestuale apodosi e prodosi entrambi al congiuntivo secondo le regole della consecucia ti chiedo che farai se ritornasse il periodo ipotetico è che farai se ritornasse che farai apodosi se ritornasse protasi ti chiedo ex tequero che farai al congiuntivo tempo reggente presente azione posteriore urus col sim ex tequero quid facturus se ritornasse ritornasse deve come consecucio temporum bypassare futuro sis finire su ti chiedo quindi congiuntivo presente si redeat a parte il fatto che qui ho detto forse una stupidaggine con facturus si se non ci dai bypassare proprio un bel niente facturus funziona da tempo principale come se fosse un presente un futuro perché effettivamente facturus si è un valore di futuro quindi dipendendo da facturus si è come se dipendesse da un principale quindi ritornasse io con contemporaneità uso il congiuntivo presente vedete che qui c'è discrepanza tra italiano e latino ti chiese che cosa avresti fatto se ritornava ex te quesivit che cosa avresti fatto qui facturus essi perché è posteriore rispetto a ti chiesi se regole della consecuzione se ritornava facturus s a valore di tempo storico contemporaneità si redire e le realtà come la traduciamo apodosi e protosi imperfetto e più che perfetto congiuntivo come in italiano e come nel periodo ipotetico indipendente eccezione di nuovo alla consecuzione c'è corrispondenza tra carriere latino non c'è consecuzione non dubito che se mi avesse ascoltato ora sarebbe con noi non dubito qui se mi avesse ascoltato simeo divisset esset novisco non dubitavo qui ho fatto che metto il già in latino ma basta non dubitavo che se mi avesse ascoltato ora sarebbe con noi non dubitavo non dubitava che se mi avesse ascoltato qui simeo divisset vedete avesse ascoltato ora sarebbe con noi non dubitavo vedete che questo è molto semplice c'è però un problema come prima ho detto se trovate se trovate l'urum fuisse siete sicuri di trovarvi in un periodo ipotetico dipendente della irrealtà adesso vi dico se voi trovate un urus fuérim si è di un periodo ipotetico dipendente da un congiuntivo e siamo in periodo ipotetico della irrealtà perché l'urus noi sappiamo che viene utilizzato col simsissit e con l'smssit che cos'è questo urus fuérim nell'apodosi si preferisce l'urus fuérim al posto del più che perfetto congiuntivo attenzione quindi non c'è dubbio che avresti fatto la stessa cosa posso mettere fecissess dubbio non è squing idem fecissess ma ci può essere fatturus fuérim se fossi stato presente si è fuissess di nuovo questi beneretti verbi potere, dovere, volere bisogna essere oggettivo neutro al condizionale passato nell'apodosi sono resi con congiuntivo perfetto non c'è dubbio che avresti potuto fare la stessa cosa se fossi stato presente dubbio non è squim potueris facere e non potuissess come è regola insomma concludiamo in bellezza la regola viene considerata quella della trazione modale quella della consecuzione temporum quella dell'apodosi quella del periodo ipotetico le regole più complesse della sintassi latina chi le vuole studiare sono qui la prossima volta noi ci impegneremo nella correzione di questi esercizi che riguardano appunto il periodo ipotetico buon lavoro per la prima volta e poi la prima volta è iniziato